Buongiorno, bentrovati. Lunedì 21 dicembre, rassegna stampa del lunedì su TV6 con grande spazio come sempre allo sport nella seconda parte per andare a vedere insieme quello che è accaduto ieri nella giornata calcistica ma anche nei campionati delle altre discipline sportive. Apriamo comunque con le prime pagine dei nostri quotidiani, partiamo dal centro per vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara, andare a leggere insieme quali sono le notizie più importanti. L'apertura è dedicata a un fatto di cronaca accaduto ieri sera dopo le 20 a Pescara nel quartiere Fontanelle. Si spara al petto per amore ferito, va dalla ex per ricucire ma la situazione precipita e fa fuoco questo uomo che si è sparato fortunatamente. Le sue condizioni sono gravi ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Su questa vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Pescara. Poi vedete in alto insieme anche per l'ultimo saluto si svolgeranno oggi infatti funerali comuni per i due marittimi travolti e uccisi nell'incidente che è accaduto sabato scorso quando i due sono stati travolti da un SUV condotto da un cittadino inglese. E poi vedete a centropagina la foto dell'ultimo saluto a Mattia il 19enne trovato morto venerdì sera vicino alla sua abitazione. Poi nella cronaca redditi, i guadagni dei politici pescaresi, masci il più ricco dei consiglieri comunali. Via Firenze smog in salita, allarme anche in centro. E poi lo sport Pescara, la padula suona la carica, ora la terza vittoria di fila perché dopo il successo nel derby Pescara si prepara la gara di mercoledì sera all'Adriatico con il Modena. Lasciamo l'edizione di Pescara del centro, andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, l'edizione del centro del quotidiano d'Abruzzo di Chieti, Lanciano, Vasto. Anche in questo caso daremo uno sguardo ai titoli di prima pagina, poi passeremo alle altre edizioni del centro, daremo uno sguardo al messaggero, ai titoli di carattere nazionale. E poi daremo come sempre grande spazio alla cronaca regionale e dunque daremo spazio anche, come detto, alle notizie che riguardano lo sport di casa nostra con i risultati, i servizi anche sulle partite di ieri. Allora, in attesa di vedere i titoli principali del centro, edizione di Chieti, possiamo passare al messaggero per vedere in questo caso qualche titolo invece di cronaca nazionale e poi, come detto, daremo uno sguardo ai titoli della cronaca regionale. Allora, prima pagina del messaggero, Caos Spagna, niente maggioranza. Ecco qui la prima pagina del quotidiano di Roma, alle urne, perché si è votato ieri nel paese iberico, alle urne, primo Raoi con il 28,7%, secondo il Partito Socialista al 22,2%, poi gli anticasta di Podemos al 20,6%. Questo è il titolo principale, questa importante tornata elettorale in Spagna. E poi le altre notizie della prima pagina, Renzi, il PIL cresce ma non basta, tregua Equitalia fino alla Befana. E poi la cronaca sportiva, Bianco Celesti vincono 2-1, Gialorossi 2-0, si fa riferimento ovviamente, essendo il messaggero, un quotidiano di Roma, ai risultati delle formazioni capitoline. Colpo della Lazio che è andata a vincere in casa della capolista Inter, Roma che batte il Genoa. Bene però solo i tre punti in questo titolo. Andiamo a vedere anche le pagine interne del messaggero. Spagna vince Raoi, ma il rebus governo, il partito del Premier si conferma primo, ma è ridimensionato. Coalizione difficile, vedete la foto con gli esponenti sopra del Partito Popolare e poi quelli di Podemos a fianco. E poi c'è l'intervista ad un commentatore spagnolo, Ignazio Martinez de Pison, che dice Il voto chiede un ricambio, popolari salvati dalla ripresa economica in questo caso. Così Mariano argina i populisti, la vera sorpresa è Podemos. Mariano sta per Mariano Raoi, l'esponente proprio dei popolari spagnoli, che è riuscito ad arginare, come si legge in questo titolo, i populisti di Podemos. Ma Podemos, proprio questo partito che è nato da poco, ha ottenuto un altro consenso elettorale importante. Vedete i risultati? Raoi 28,7, Iglesias di Podemos 20,7, Sanchez dei socialisti 22,1. E poi l'esponente di un partito centrista anti-casta con il 13,9%. Andiamo avanti, rispetto Banca Italia, ma il sistema cambi e per il 2016 Renzi vede il PIL a più 1,5%. Parla il presidente del Consiglio, banche per il Premier, fallito l'attacco al governo, poi accusa il Movimento 5 Stelle, fa opposizione soltanto a telecamere accese. La replica dei pentastellati che dicono è una bugia. E poi in basso si parla di Rai. Rai, la maggioranza, punta a chiudere prima di Natale nella riforma più poteri al direttore generale che diventa amministratore delegato. Il Premier non arretra e vuole la scossa per avere più crescita per Palazzo Chigi, necessari accorpamenti in grado di ridurre le sofferenze delle banche. I ritardi nella creazione della Bad Bank italiana spingono a cambiare il sistema. Proseguiamo. Visco, non avevo poteri per rimuovere i vertici delle banche in crisi. Parla il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che in TV dice la Banca d'Italia ha lavorato seriamente al sicuro i risparmi degli italiani, mai pensato alle dimissioni. Ha detto ieri sera alla trasmissione che tempo che fa il governatore di Banca Italia. Via nazionale, scelta dell'Unione Europea, azzerare bond e azioni. E poi questa intervista ad Alessandro Azzi di Federcasse che dice no a riforme modello agricole, le BCC conservino l'autonomia perché ora nel mirino ci sono le banche di credito cooperativo. Ne sono tantissime nel nostro Paese. Si parla ancora di banche. Etruria, pool di 4 PM al lavoro su 100 denunce. Oggi sul tavolo della Procura di Arezzo le contestazioni di via nazionale al CDA. Dai bilanci emerge la scelta di spostare sui piccoli investitori la raccolta con obbligazioni. Dunque le indagini proseguono per chiarire quello che è accaduto in Banca Etruria. A pagina 9 si parla di manovra, si apre la partita flessibilità. Per il tesoro la legge di stabilità uscita dalla Camera è ancora più espansiva. Ma ora la parola passa a Bruxelles. Per il giudizio il Governo punta a consolidare la ripresa dell'occupazione con decontribuzione, credito d'imposta e spesa produttiva. Proseguiamo. Si parla di politica. Verdini, svuoto Forza Italia. L'Ira degli Azzurri, l'ex coordinatore, attacca e dice sono tanti i forzisti. In arrivo in un mese la mia formazione raddoppierà i parlamentari. Berlusconi, chi vuole libero di andarsene, ma il centrodestra è già sopra il PD. Pressing di Salvini per un'opposizione più dura. Vedete un'immagine di qualche tempo fa, fianco a fianco, Verdini e Berlusconi. Ora le cose sono però cambiate. Vedete in questo grafico anche i numeri di Forza Italia che negli ultimi mesi ha perso comunque alcuni deputati e anche alcuni senatori. Poi la festa, senato, concerto di Natale con i ragazzi e i rappresentanti delle tre grandi religioni. E poi in basso, nei libri nebbistecche ma statue di Gandhi, la versione Casaleggio, l'Italia del futuro, nell'ultimo libro del guru del Movimento 5 Stelle, e le previste gabbie per i corrotti agli angoli delle strade. Proseguiamo. Notizie dal mondo. Ore di terrore in volo sul Boeing per Parigi, ma la bomba è finta. Sull'Air France decollato dalle Mauritius, un passeggero scopre in un bagno un timer, atterraggio d'emergenza in Kenya. Poi fortunatamente si è visto che si trattava di una finta bomba. E poi libero lo stupratore di Nirbaya, rivolta in India, minorenne ai tempi della violenza, scontato tre anni di riformatorio, arrestati e rilasciati i genitori della vittima. Libano-Israele, razzi e raid al confine. Alta tensione dopo l'uccisione di Kantar, uno dei capi degli Hezbollah colpito in un attacco aereo in un quartiere periferico di Damasco. Il gruppo uscita, dato la responsabilità del blitz a Tel Aviv, che non ha confermato l'operazione, era un uomo cattivo. E poi si parla di elezioni negli Stati Uniti, elezioni del 2016. Hillary Clinton, che riesce a dominare i rivali interni, attacca Trump, reclutatore dell'Isis, dice l'esponente del Partito Democratico. Andiamo ancora avanti. Roma, la beffa del Colosseo. Niente fondi per il 2016. La soprintendenza archeologica non ha messo in bilancio soldi per la manutenzione. A rischio monitoraggio, conservazione e sicurezza. Serve un milione e mezzo. Poi Equitalia, niente cartelle per Natale. La tregua fino al 6 gennaio. Eccezione per casi inderogabili. Allora, lasciamo il messaggero. Abbiamo visto un po' di cronaca nazionale. Tra qualche istante vedremo qualcosa che riguarda ovviamente i titoli di Casa Nostra, ripartendo dal quotidiano Il Centro, per vedere i titoli che riguardano proprio la cronaca d'Abruzzo. Allora, andiamo a vedere intanto la prima pagina del Centro, edizione di Chieti. Prima avevamo visto i titoli principali dell'edizione di Pescara. Lucchetti al Palacus, direttore generale indagato. Università, minacce e abuso. Una nuova inchiesta per del vecchio. E poi a Chieti, festa del 118. Paolucci annuncia più elicotteri. E poi la cronaca. Sevele, la FIOM proclama lo sciopero. Paura a lanciarlo. Lo scippatore colpisce in pieno centro. Questi titoli del Centro, edizione di Chieti. Andiamo a vedere tra qualche istante il Centro, edizione di Teramo. Vedremo se si aprirà in tempo consono per andare a vedere anche in questo caso qualche titolo che riguarda proprio l'edizione teramana del quotidiano Il Centro. Poi passeremo all'edizione dell'Aquila. Dobbiamo attendere ancora qualche secondo. Però allora, in attesa che si apra l'edizione di Teramo del Centro, torniamo al messaggero e andiamo a vedere a questo punto invece qualche notizia di cronaca che arriva dall'Abruzzo, perché poi nella seconda parte, dopo il meteo, parleremo ovviamente in maniera dettagliata di sport, come ogni lunedì. Bond Beffa, appello ad Alfonso. Salva banca. Il consigliere Aquilano Pietrucci scrive al governatore, in particolare per Banca Etruria, l'accusa, una scelta criminale, chiesto un tavolo di confronto con i comitati dei risparmiatori. Poi siamo a Chieti, gli angeli del 118, vent'anni di soccorsi e numeri da record. Poi la foto di prima pagina che riguarda Pescara, l'altro Natale, l'esercito dei disperati, il centro invaso dai mendicanti. E poi ci sono le cronache che riguardano le nostre province. Allora partiamo dall'Aquila, voglia di normalità. Il centro si riempie, casa di Babbo Natale, 7.000 presenze in tutto il weekend. Poi in carico in provincia del Corvo, nel Mirino, l'ex presidente, accusato di falso, è stato già ascoltato. E poi l'Accademia dell'Immagine, Rossettini, si dimette, Campo Felice, guasto elettrico, sciatori bloccati sulla seggiovia. E poi Comune ASM verso la transazione, dietro fronte del Comune sul debito maturato di 4 milioni. Siamo sempre all'Aquila, dove poi si parla anche di volley femminile, serie C donne, sorride il Cus l'Aquila. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, vacanze natalizie al via all'isola pedonale ad Avezzano, mentre a Carsoli un presepe spunta vicino al viadotto dei suicidi. E poi Sulmona, centro massaggi hard, tre persone indagate. E poi ancora nella cittadina Peligna, finti carabinieri truffano una vedova. Siamo a Pescara, il centro invaso dai mendicanti, l'altra faccia delle feste, dal Corso Vittorio Emanuele a Piazza Duca d'Aosta, un esercito di disperati fa ala al via vai frenetico nei giorni dello shopping. E poi si parla di un ragazzino in bicicletta investito sulla riviera. Indagano i carabinieri accaduto a Montesilvano, mentre ha si attrezzato, riapre oggi lo svincolo di Porta Nuova. Siamo alla pagina di Chieti, oltre 20.000 soccorsi, i numeri record del 118, un paziente su quattro curato sul posto, da medici e personale del servizio di Chieti. Convention, Torre Vecchia, Teatina, per celebrare i vent'anni del sistema di emergenza. Da Chieti ci spostiamo a Lanciano, ferie straordinarie, la FIOM alza la voce dietro all'aumento della produzione in Sevel, il rischio di un altro colpo ai diritti dei lavoratori, dicono gli esponenti del sindacato FIOM. E poi reti idriche all'ACA, rischio aumenti, la denuncia di Enrico Raimondi, gli incassi serviranno, dice, a ripianare i conti dell'azienda. Siamo alla pagina di Teramo del Messaggero, Fiera di San Berardo, successo ma tanti ambulanti abusivi, oltre 200 le bancarelle in centro, formidabile afflusso di visitatori e affari, premiata la scelta di anticipare la data, problemi per l'utilizzo dei parcheggi. Poi a Tortoreto abbiamo visto anche questo titolo dalle prime pagine del centro, Graziano e Marco, l'ultimo saluto, assieme funerali congiunti per le due persone rimaste vittime dell'incidente di sabato scorso. Oggi l'inglese ubriaco alla guida sarà interrogato dal sostituto procuratore Colica. Nuovi accertamenti per chiarire esattamente la dinamica di questo terribile incidente. E siamo ad Atri, tragedia sfiorata precipita dal tetto, grave operaio di 51 anni, a Roseto, poi Delia deve curarsi in Germania. Funziona la gara di solidarietà. Ancora avanti, con due titoli dal messaggero che riguardano Giulianova, D'Angelo del Fipe dice bisogna combattere l'evasione dopo la denuncia su albergatori e concessionari inadempienti. Ora scattano le reazioni. E poi marcia fino a San Gabriele in compagnia dei migranti. Questa iniziativa. Siamo allo sport. Ancora qualche secondo per andare prima di parlare di sport, in questo caso delle notizie che riguardano i campionati, le nostre formazioni. Una giornata, quella di ieri, per quanto riguarda il calcio, lo possiamo dire, non proprio fortunatissima. In Lega Pro, il Teramo è stato sconfitto per 2-0 sul campo della capolista Spal. Sabato c'era stata la sconfitta dell'Aquila in casa della Lucchese. Per quanto riguarda la serie D, quella di ieri, è stata la giornata del Giulianova. C'era l'esordio in panchina di Michele Gelsi al posto dell'esonerato Francesco Giorgini e il team, il team giallorosso, è riuscito a vincere con pieno merito con il Monticelli. Allora, torniamo al centro per vedere la prima pagina dell'edizione di Teramo, proprio del quotidiano d'Abruzzo. Eccola qui. Torniamo proprio sulla tragedia di Tortoreto. Graziano e Marco uniti nell'Adi oggi a Tortoreto i funerali dei due marittimi uccisi sulla strada. E poi parlavamo proprio qualche istante fa della giornata di ieri per quanto riguarda i campionati di calcio. Lega Pro, Teramo, mal di trasferta, sconfitto 2-0 dalla capolista Spal, accuse all'arbitro. Poi vedremo il servizio in serie D. Giulianova risorge con la cura Gelsi. Vediamo gli altri titoli che riguardano la prima pagina del centro, edizione di Teramo. a Fontanelle di Atri, cade da tre metri mentre lavora sul tetto e grave. E poi da mercoledì il parcheggio della stazione a Teramo per ora sarà gratuito. E poi il giubileo, il vescovo di Teramo Atri, Monsignor Rosseccia, apre la porta santa di Atri. E poi polemica a Silvi, Valle Scura dice in quel quadro non ci sono io. Chiudiamo, se vediamo, se riusciamo a vedere anche l'edizione, la prima pagina dell'edizione dell'Aquila del centro, in questo caso, e poi sono le 7 e 18 minuti. Possiamo, tra qualche istante, apriremo tra l'altro anche la pagina del meteo con il nostro Giovanni De Palma per andare ad ascoltare proprio dalla sua viva voce le previsioni del tempo per quanto riguarda la nostra regione proprio in questa settimana, la settimana che ci porta al Natale. dunque sarà interessante anche in questo caso ascoltare le previsioni del tempo con questo campo di alta pressione che continua a garantire da diverse settimane anche sulla nostra regione condizioni meteo sicuramente più primaverili che invernali. Allora, prima pagina del centro, edizione dell'Aquila, così chiudiamo con le quattro edizioni, troppi furti, l'Aquila addio, l'Avvocato Colagrande si trasferisce a Pescara, qui non si può vivere dice il professionista Aquilano. In alto rivediamo il titolo che riguarda l'ultimo saluto e due marittimi morti dell'incidente stradale di sabato scorso e poi le altre notizie Ladri e Piromani nella Marsica cresce la paura Rocca di Cambio appesi mezz'ora sulla seggiovia di Campo Felice e poi lo sport in questo caso che riguarda le formazioni dell'Aquila e della provincia dell'Aquila partiamo dalla Lega Pro l'Aquila cerca rinforzi per la difesa vedete nella foto il tecnico Perrone poi calcio di serie di Lavezzano sfiora il colpo a Recanati sono le 7 e 20 minuti possiamo dunque aprire come di consueto la pagina del meteo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora dicevo qualche istante fa Giovanni questo campo di alta pressione continua a garantire ormai da settimane tempo stabile soleggiato ristagno dell'aria nebbia nelle prime ore della mattina come questa mattina in alcune zone anche tra le province di Pescara e Teramo e anche al tramonto condizioni meteo che sono destinate a durare ancora e se sì per quanto tempo? Eh sì Paolo hai detto bene perché quest'area di alta pressione ormai da diverse settimane continua a interessare la nostra penisola impedendo le perturbazioni di raggiungere il Mediterraneo centrale quindi eh non portando le precipitazioni che al nord ad esempio mancano dai 50 ai 60 giorni quindi una situazione questa davvero anomala eh per questo periodo perché proprio in autunno e in inverno le perturbazioni solitamente giungono alle nostre latitudini eh l'alta pressione provoca come detto tu purtroppo anche un ristagno delle masse d'aria nei bassi strati in prossimità del suolo e quindi di conseguenza un accumulo degli inquinanti purtroppo nelle città e non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore e nemmeno nei prossimi giorni perché se da un lato un debole sistema nuvoloso attraverserà le regioni settentrionali spiorando anche la nostra regione favorendo qualche annuvolamento nel corso della giornata dall'altro bisogna segnalare una nuova rimonta dell'alta pressione almeno fino alla giornata della vigilia di Natale perché poi ci sarà un debole cedimento di questa forte struttura di alta pressione in quota e ciò favorirà il transito tra la vigilia e la giornata di Natale di un sistema nuvoloso quindi aumenterà la nuvolosità forse ci sarà spaccio anche a delle debole precipitazioni al centro nord ma non si tratterà di un peggioramento organizzato che non porterà appunto un deciso cambiamento della circolazione meteorologica ma comunque ti volevo segnare Paolo che questa anomala situazione di tempo stabile prolungato probabilmente tenderà a cambiare a partire dai primi giorni del nuovo anno si tratta di una tendenza questa ovviamente un'ipotesi che dovrà essere necessariamente confermata nel corso dei prossimi giorni Paolo ipotesi che potrebbe precludere Giovanni ad un inizio di anno con freddo e anche con neve ti chiedo anche se ovviamente è difficile fare previsioni come c'è sempre detto al di là dei 3-4 giorni ma guarda sì effettivamente non possiamo dirlo non si può dirlo se arriverà il freddo sulla nostra penisola però quel che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici è un deciso raffreddamento della penisola scandinava e di gran parte dell'Europa orientale e della Russia perché sembra formarsi il cosiddetto anticicrone russo siberiano da quelle parti e quando c'è l'anticicrone russo siberiano da quelle parti insomma noi dobbiamo seguire attentamente la situazione perché potrebbe il freddo spingersi più a ovest raggiungendo anche le restanti zone dell'Europa centrale però si tratta ovviamente questa di soltanto di un'ipotesi che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi giorni però insomma ci so c'è una novità ed è questa io l'ho segnalata però ovviamente poi ci dovremmo tornare su pian piano nel corso dei prossimi giorni per vedere se confermare o smentire questa tendenza Paolo perfetto grazie Giovanni come sempre esaustivo nelle previsioni meteo per quanto riguarda la nostra regione io ti ringrazio ti auguro un buon proseguimento di giornata e un buon lavoro grazie grazie Paolo grazie una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 ringraziamo Giovanni De Palma ma per saperne di più il sito internet www.abruzzometeo.org ormai lo conoscete bene informazioni in tempo reale sull'evoluzione meteo che riguarda la nostra regione ci sono i live vedete delle quattro province tutte le informazioni necessarie per restare sempre aggiornati così come un utile strumento e anche la pagina Facebook del nostro meteorologo Giovanni De Palma per restare sempre aggiornati sulle previsioni del tempo noi torniamo ai nostri quotidiani siamo al centro per vedere qualche titolo di cronaca che riguarda le nostre province poi dopo la pausa ci concentreremo nella seconda parte sullo sport partiamo dalla cronaca di Pescara sul quotidiano il centro quanto guadagnano i politici redditi dei consiglieri comunali Masci il più ricco il consigliere dichiara 183 mila euro l'anno al fisco il più povero e longhi tra gli assessori spicca su tutti la Marcheggiani e vedete questo riquadro con i redditi complessivi dichiarati dai consiglieri comunali di Pescara proseguiamo tragedia d'amore litiga con la ex si spara al petto ferito Fontanelle va da lei per chiederle di ripensarci poi tira fuori la pistola e fa fuoco il colpo fortunatamente non tocca organi vitali tre barche a fuoco sotto il ponte intervento dei vigili nella notte per un incendio il fumo ha invaso mezza città proseguiamo calcinacci al ferrotel siamo sempre a Pescara transennata tutta l'area il vecchio edificio abbandonato di Corso Vittorio Emanuele perde pezzi dal tetto oggi l'intervento per la messa in sicurezza finestre murate per evitare intrusioni andiamo ancora avanti si parla di polveri ancora troppo alte via Firenze fuori dai limiti dopo via Sacco oltrepassato il tetto dei 35 superamenti annui anche in centro il comune rimanda all'anno nuovo altre iniziative per combattere lo smog e poi Babbo Natale in elicottero consegna doni a 150 bambini la manifestazione all'aeroporto di Pescara e poi per lo shopping di Natale un fine settimana positivo Confcommercio e Confesercenti dicono ci sono i primi segnali di ripresa delle vendite lo spettacolo di luci in piazza Salotto allieta la corsa agli acquisti per le feste vedete poi la notizia che riguarda il Pescara Pescara Calcio al negozio Paul White festa ieri sera in via Carducci e poi alle 16 in comune Filovia oggi si riapre lo scontro in consiglio comunale e poi ancora la cronaca in questo caso che ci porta a penne nell'area vestina per l'ultimo saluto a Mattia tutta la città si è fermata penne folla commossa ai funerali del 19enne morto venerdì vicino casa il comune il bike park della cittadella dello sport sarà intitolato al giovane poi a Montesilvano una banda di Babbi Natale per donare dolci ai bambini e poi a Bussi sito di Bussi gara per la bonifica disponibili 50 milioni per l'appalto la gatta critica il PD sull'azzeramento di Goio proseguiamo siamo alla pagina di Chieti del centro Lucchetti al Palacus il direttore generale indagato per abuso e minacce del vecchio interrogato dopo la denuncia di Di Marco la PM Ponziani gli contesta anche la diffamazione e oggi la resa dei conti vedete questo titolo di Ilio al Senato cerca la fiducia sull'epurazione di Capasso e poi siamo nell'area della Val di Sangro niente ferie alla Sevele scatta lo sciopero oggi la protesta anche per gli straordinari obbligatorie 10 minuti di pausa tagliati a 2500 lavoratori all'Aquila lascio la città con dolore impossibile vivere qui l'avvocato Cola Grande decide di trasferirsi a Pescara dopo l'ennesimo furto e poi un'area attrezzata a verde all'interno di Piazza d'Armi e Campo Felice blackout in Seggiovia infine Sul Mona stesso pagamento nel centro Massaggi scoperto un giro di squillo vicino ai negozi del Borgo denunciate tre persone infine chiudiamo con la cronaca con la pagina del centro del lunedì che riguarda Teramo omicidio stradale Graziano e Marco uniti per l'ultimo saluto oggi il funerale dei due marittimi morti nell'incidente di sabato il sindaco di Alba Adriatica speriamo che con la nuova legge si possano evitare queste morti e poi due notizie che arrivano da Silvi e da Atri Silvi in quel quadro non ci sono io vi è raffigurato il padre ma la famiglia non ha commissionato l'opera l'ex assessore Valloscura parla di questo quadro e infine ad Atri cade da tre metri di altezza mentre lavora sul tetto è grave lasciamo la cronaca ci fermiamo per qualche istante poi seconda parte con lo sport dai nostri quotidiani seconda parte di mattino 6 rassegna stampa di lunedì 21 dicembre siamo allo sport come sempre ampia la pagina del lunedì partiamo dal centro la prima pagina che parla del Pescara la padula Pescara voglio il Tris Biancazzurri a caccia del terzo successo di fila con il Modena giorni decisivi invece per il Lanciano e poi questa storia una storia come si suol dire a lieto fine vedete in basso viene in Italia per studiare finisce in Serie A la storia del 17enne senegalese che va dallo spoltore prima categoria fino alla primavera della Roma andiamo avanti la diciassettesima giornata del campionato di Serie A una giornata quella di ieri anche delle partite del giorno precedente degli anticipi che ha regalato diverse emozioni vedete forse il risultato più a sorpresa è quello che arriva da Milano dove la Lazio in crisi sconfigge la capolista Inter per 2-1 Lazio Candreva stoppa il volo dell'Inter Follì e Felipe Melo provoca il rigore si fa espellere giornata negativa serata negativa per l'Inter e poi le altre gare piegato il Frosinone il pescarese Ciofani segna un gol storico con il Frosinone al suo Milan lui che è tifoso rosso-nero poi Mialovic si salva con un poker Frosinone Milan 2-4 le altre gare Atalanta-Napoli 1-3 con Iga-In ancora in gol e poi Fiorentina che torna al successo battendo per 2-0 il Chievo vediamo anche le altre gare Juve settimo sigillo di Allegri ma è furibondo come Hulk 3-2 sul Carpi per i bianconeri ma tecnico della Juventus tutt'altro che soddisfatto torna successo la Roma 2-0 sul Genoa e poi le altre partite con la sconfitta interna del Torito con l'Udinese per 1-0 pesa il crollo in Coppa Italia con la Juventus per i Granata che sono in crisi e poi prima vittoria della gestione Montella per la Sampdoria che batte a Marassi 2-0 il Palermo infine Verona-Sassuolo 1-1 per Eusebio Di Francesco Pescarese Doc ieri traguardo davvero importante con le cento panchine con la centesima panchina in Serie A ma l'Eterno Toni gli rovina la festa 1-1 tra Verona e Sassuolo ma situazione di classifica dell'Ellas-Verona a dir poco disperata siamo alla pagina che riguarda il il campionato di Serie B partiamo dal Pescara il bomber del Pescara la Padura se segno al Modena mi vesto da Babbo Natale la Padura capocannoniere della B sulle orme di Immobile ma non si sbilancia la Juve mai sentita la Serie A piano io comunque aspetto a fissare le nozze vedete poi questa classifica con i voti dei giocatori del Pescara intanto si guarda alla gara con i canarini modenesi di mercoledì sera alle 20.30 rientro di Verra e oggi il test decisivo e poi il Lanciano due gare in cinque giorni la Virtus si gioca tutto mercoledì sera a Terni e poi domenica in casa con il Livorno ma dopo il derby persi a Lanciano c'è scoramento nell'ambiente Lanciano penultimo in classifica che deve invertire la rotta di iniziare proprio dalla gara di mercoledì a Terni e siamo la Lega Pro l'Aquila pensa al mercato Battisti rinforzi in difesa il passo falso di sabato a Lucca conferma i limiti strutturali della squadra il direttore sportivo dice certi errori sono inammissibili nelle retrovie pecchiamo di personalità e siamo al Teramo Teramo flop e mal di trasferta contro la capolista Spal arriva la quarta sconfitta consecutiva lontano dal Bonolis 2 a 0 ieri la vittoria dei bianco celesti emigliani al Paolo Mazza con Reti di Quinzio al quindicesimo e Autorete di Tonti al diciannovesimo ma si è trattato di un colpo di testa da parte di Gasparetto per la formazione bianco celeste c'è stato il tocco di Tonti ma soprattutto il fallo commesso dal giocatore della Spal sul portiere Teramano Tonti grandi proteste proprio per la direzione di gara del fischietto toscano Baroni di Firenze ma noi andiamo a vedere quello che è successo ieri al Paolo Mazza di Ferrara con il successo per 2 a 0 della Spal sul Teramo non si arresta il mal di trasferta per il diavolo che torna a mani vuote anche dal campo della capolista Spal al Paolo Mazza i biancorossi hanno offerto un'altra prestazione sotto tono subendo due reti in 5 minuti rischiando di subire altri gol nella ripresa quando in un paio di circostanze sono risultati decisivi anche gli interventi del portiere Tonti per il Teramo di Vincenzo di Varini i numeri lontano dal Bonolis restano impietosi nella loro crudezza al Paolo Mazza ci sono oltre 4.000 spettatori per la capolista che è reduce da due pareggi di fila nel settore ospiti una trentina di supporters biancorossi in campo formazioni annunciate e medesini schieramenti con il 3-5-2 dopo la nebbia della mattina si comincia con il sole visibilità ottima e temperatura insolitamente mite avvio equilibrato ma la capolista è micidiale al quarto d'ora su punizione dai 22 metri per un fallo non proprio solare commesso da perrotta Di Quinzio trova il vantaggio quasi perfetta l'esecuzione del centrocampista biancazzurro che aggira la barriera mettendo la palla alle spalle del portiere Tonti subito in salita la gara del Mazza per i biancorossi che al 19esimo subiscono il raddoppio di Gasparetto che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo in mischia mette alle spalle di Tonti andando a travolgere l'estremo Teramano il fallo sul portiere abruzzese sembra evidente con Baroni che però convalida senza esitazioni nonostante le proteste vibranti dei giocatori e dei tifosi ospiti dopo l'1-2 micidiale dei padroni di casa il Teramo cerca di reagire ma bisogna attendere il 35esimo per vedere un colpo di testa centrale di Moreo che non crea problemi a Branduani più pericoloso l'attaccante biancorosso al 44esimo con un tiro al volo che termina alto prima della conclusione di Di Paolo Antonio parata da Branduani la ripresa si apre senza grossi sussulti con Zambardi che dopo qualche minuto spedisce in campo Petrella e Da Silva per le noci e Cecchini all'undicesimo Castagnetti con un tiro insidioso fa gridare al gol i tifosi di casa con Tonti che tocca il pallone quel tanto per mandare la sfera in calcio d'angolo sugli sviluppi del corner Gasparetto di testa va a colpire in pieno la traversa con il portiere ospite battuto il Teramo ci prova ma al sedicesimo e finotto a chiamare al miracolo ancora Tonti la spalla rischia di dilagare al ventesimo e filotto con un pallonetto a mancare il tris con il salvataggio sulla linea alla disperata di Caidi la visibilità peggiora rapidamente con il passare dei minuti e con le idee del Teramo che restano annebbiate la squadra di Zambardi cerca di fare qualcosa al venticinquesimo da Silva su punizione manca di poco il bersaglio troppo poco per pensare di creare però problemi ad una spalla che continua ad attaccare al ventottesimo finotto prima conclude alto e poi al trentunesimo colpisce in pieno la traversa poi solo nebbia e la festa bianca-azzurra per un primato sempre più al sicuro e con il Teramo costretto ancora una volta a leccarsi le ferite lontano dal Bonolis la gara che si è chiusa con una fitta nebbia con il Teramo ancora sconfitto in trasferta Zambardi accusa l'arbitro due decisioni discutibili il vice dello squalificato Vivarini sbotta al novantunesimo il primo gol punizione regalata mentre sulla seconda rete c'è stato un evidente fallo sul nostro portiere oggi nel corso del TG6 vi proporremo anche alcune interviste realizzate ieri a Ferrara Amadio dobbiamo essere più incisivi speranza buon primo tempo nella ripresa dovevamo rischiare qualcosa andiamo avanti parliamo di serie D Gersi rilancia il Giulia 9 Sordio vincente con il Monticelli per il tecnico in coppia con Pisano 3 a 0 alla formazione marchigiana vediamo anche gli altri risultati Re Canatesi Avezzano 2 a 2 Marsicani che sfiorano la vittoria in terra marchigiana ancora in gol il giovane Pollino e poi Chieti secondo capo di fila la Iesina basta un tempo i neroverdi rimandano il riscatto i nuovi innesti non bastano per invertire la rotta Zuccarini siamo scesi in campo senza la giusta cattiveria approccio sbagliato e poi cade il San Nicolò sul campo della capolista San Benedettese la formazione marchigiana si impone in rimonta sui biancazzurri con due gol nel finale e poi Amiternina all'ultimo posto con la Fermano ottava sconfitta 4 a 3 per i marchigiani risultato finale e siamo anche al campionato di eccellenza la vastese ora comanda da sola capolista che batte la Val di Sangro 3 a 0 e grazie al colpo grosso dell'angolana in casa del paterno i vastesi gli aragonesi allungano in classifica proprio sulla formazione marsicana vediamo anche gli altri risultati Morodoro Miglianico 2 a 0 Cupello Pineto 1 a 0 Acqua e Sapone Celano 0 a 0 Torrese Montorio 1 a 1 Francavilla San Buceto 0 a 0 Capistrello Martinsicuro 4 a 1 Alba Adriatica San Salvo 3 a 1 e come detto Vastese Val di Sangro 3 a 0 andiamo ancora avanti ci sono i risultati dei campionati dilettantistici regionali e poi siamo al basket al basket per parlare della Serie 2 il treno Roseto si ferma sfuma l'impresa a Ravenna dove la formazione di casa si impone per 93 ad 82 e dunque si ferma a 6 vittorie consecutive il cammino della formazione di coach Tony Trullo e poi la Proger Chieti Chieti sconfitta in casa la Proger ci mette il cuore ma Verona è spietata Tezenis che passa per 73 a 63 in casa dei Teatini siamo al basket di Serie B il Campli si riscatta e Bastovà a fondo Campli che batte con un punteggio davvero eloquente 87 a 44 la formazione aragonese poi l'Ortona che piega il Valmontone in trasferto 89 a 71 prosegue il momento positivo anche degli ortonesi e invece a Falconara l'amatori si sveglia troppo tardi Pescara cade sul campo dei marchigiani non basta la reazione dell'ultimo quarto vediamo tutti i risultati del girone D della Serie B di Pallacanestro Giulianova Martina Franca 72 a 63 Valmontone Ortona 71 a 89 Porto Sant'Elpidio Senigallia 64 a 76 Mola di Bari Monteroni 88 ad 81 Camplivasto 87 a 44 Bisceglie Sansevero 64 a 71 Montegranaro Taranto 98 a 73 Falconara Pescara 89 ad 80 in classifica per quanto riguarda le abruzzesi Campli al terzo posto con 20 punti Ortona quarta in classifica con 18 punti poi Pescara più indietro a 14 Giulianova a 12 chiude il vasto a 4 punti il prossimo turno si tornerà a giocare il 27 dicembre queste le gare che riguardano le formazioni della nostra regione Pescara che ospiterà la capolista Montegranaro poi il derby Ortona Giulianova e la sfida Casalinga del Vasto con il Valmontone che è penultimo in classifica chiudiamo con il volley per quanto riguarda le pagine del centro impavida da brividi ma vince ancora la Sieco batte l'Alessano con il punteggio con il parziale di 3 a 1 questi i parziali invece dei set 25-19 25-23 23-25 25-23 dunque ancora una vittoria per l'Ortona che festeggia i tre punti e sale al sesto posto in classifica vediamo quali sono stati i risultati di questa undicesima giornata del campionato maschile di Serie A2 di pallavolo Sora Castellana Grotte 3 a 0 Ortona Potenza Picena Mondovi 3 a 1 Siena Club Italia 3 a 2 Civita Castellana Reggio Emilia 3 a 0 Brescia Tuscania 0 a 3 in classifica vedete l'Ortona che con Cantù ha 16 punti ed è al sesto posto domenica prossima ultima gara del 2015 con Ortona in casa del Tuscania Tuscania che ha 21 punti in classifica e precede di 5 lunghezze proprio gli ortonesi lasciamo le pagine dello sport del centro per andare al messaggero per vedere anche in questo caso partendo dal calcio un po' di notizie poi vedremo anche dei servizi sulla serie di calcio Pescara obiettivo 6 punti dopo la vittoria nel derby Biancazzurri provano a fare bottino pieno nelle ultime due gare del girone d'andata Caprari ribadisce obiettivo doppia cifra e poi la Sieco centra la terza vittoria consecutiva parliamo di volley abbiamo appena visto il 3-1 il risultato e la vittoria di 3-1 sull'Alessano e poi il Lanciano daversa fiducia a tempo il tecnico dice la zona play-out è a 6 punti questa squadra può ancora giocarsi la salvezza e poi un precedente che lascia ben sperare i rossoneri perché a Terni lo scorso anno ci fu l'ultima vittoria in trasferta della Virtus siamo alla Lega Pro l'Aquila dai due volti la società sta pensando ai rinforzi il Teramo fuori casa non gira Biancorossi battuti per 2-0 a Ferrara dalla spalla Zambardi dice sconfitti da due gol irregolari Amadio difficile rimediare al doppio svantaggio e poi siamo alla Serie D il Giulianova di Gelsi parte alla grande dopo qualche sofferenza iniziale i giallorossi travolgono 3-0 il Monticelli Di Stefano sblocca la gara nella ripresa la chiudono Giampaolo e Straccia andiamo dunque a vedere nel servizio di Antonio Recanati questo 3-0 dei giallorossi Alfadini con il Monticelli si temeva una feroce contestazione da parte dei supporters giallorossi a Giulianova dopo l'esonero di Giorgini ed invece solo due striscioni uno pro Giorgini e l'altro indirizzato al neopresidente Serraiocco ed invece il Giulianova ha sfoderato davvero una prova convincente la cronaca inizia al sesto minuto con Galli del Monticelli che da buona posizione spaventa Ursini al decimo ancora Monticelli questa volta è Margherita che scatta sul filo del fuorigioco a tu per tu con Ursini manda clamorosamente fuori la sfera si vede il Giulianova al quindicesimo con Pellecchia respinge Di Nardo un minuto dopo pericolo in area giuliese sbroglia la difesa poi Ursini a spaventare il Fadini con questa presa che stava diventando un clamoroso autogol al venticinquesimo ecco il vantaggio giuliese da calcio d'angolo c'è una prima ribattuta palla sui piedi di Stefano che non sbaglia al quarantesimo il Giulianova potrebbe raddoppiare con Pellecchia che fa tutto da solo dribblando tre avversari ma la conclusione viene ribattuta e qui si chiude il primo tempo inizio scoppettante del Giulianova nella ripresa già al primo minuto è Di Stefano sulla destra defilato ad impensierire Di Nardo due minuti dopo il raddoppio azione davvero bella con palla che arriva di Giampaolo che dal limite fulmina Di Nardo al diciottesimo reclama un penalty di Stefano ma per Rainone Di Nola e simulazione del Monticelli nessuna traccia e così al trentatreesimo arriva il tris per il Giulianova con questo bolide di straccia con Di Nardo forse non esente da colpo quarantaduesimo si vede il Monticelli Galli manda alto di testa però sul cross di Vallorani finisce in festa dunque per il Giulianova e comincia bene anche l'era Gelsi Pisano sulla panchina giallorossa la soddisfazione di Gelsi avete visto dalle immagini e poi a Miternina Fermana 3 a 4 4 gol dell'ex Molinari in Guaiano la formazione Aquilana e poi San Nicolo a testa alta sfiora il pareggio contro la San Benedettese in casa della capolista nulla da fare per la squadra Bianca Azzurra battuta per 3 a 1 vediamo il servizio la Samba si regala un dolcissimo Natale che sa di Lega Pro alla Riviera delle Palme nell'ultima giornata di andata del girone F i rosso-blu di Ottavio Palladini battono 3 a 1 il San Nicolò di Massimo Epifani un pegorin sul suo palo palla che sbatte prima sulla traversa e che poi si inzacca in rete i rosso-blu trascinati costantemente dal pubblico di casa provano a reagire affidandosi soprattutto alle sfuriate di Titone e alle avanzate di Palumbo e Sabatino alla mezz'ora l'urlo di gioia della Riviera si strozza in gola Salvatore va in gol con una girata di destro ma l'arbitro segnala fuori gioco si va al riposo con il San Nicolò in vantaggio ma già al nono della ripresa la Samb trova il gol del pari calcio di punizione battuto da Barone Sorrentino fa da torre e Sabatino inzacca dopo 10 minuti occasione rosso-blu per il sorpasso ma Sorrentino non trova la porta per una questione di centimetri il forcing casalingo cala di intensità con il passare dei minuti ma al 41esimo arriva comunque il gol del 2-1 assist di Titone e stavolta l'inzuccata è di Sorrentino che conferma l'ottimo momento di forma con il quinto centro stagionale nel finale trova il gol anche Pezzotti su un'azione che vede arbitro e guardaline e protagonisti di un curioso siparietto per il primo assistente Fonte Murato Sorrentino è in offside ma il fischietto capitolino Luciani lascia giocare il pallone arriva al neoentrato Pezzotti che inzacca finisce 3-1 per la Samb è un Natale da record con 41 punti in classifica e vantaggio di più 8 sul Matelica il San Nicolò non si sveglia dalle targo e raccoglie la quarta sconfitta nelle ultime sette partite i Terramani non vincono dallo scorso primo novembre è andata male al San Nicolò è andata probabilmente peggio al Chieti che delude ancora battuto per 2-0 a Iesi una sconfitta disarmante quasi tutti i nuovi acquisti in panchina decide Carnevali che poi viene espulso i tifosi neroverdi lasciano gli spalti indispettiti dalla prestazione come vedete 2-0 per la Iesina i gol di Pierandrei e Trudo per il Chieti un'altra battuta d'arresto seconda sconfitta consecutiva squadra ormai lontanissima dalle prime posizioni andiamo a vedere dunque questo servizio sul K.O. dei neroverdi ultima di andata al Carotti di Iesi le oncelli affrontano il Chieti che entra in campo indossando una maglietta con scritto Forza Cristiano giocatore dell'Atalante e fratello di Federico del Grosso capitano dei neroverdi vittima nei giorni scorsi di un grave incidente d'auto il primo squillo della gara lo suona Trudo al decimo minuto con un tiro dal limite fuori misura risponde subito il Chieti con Dos Santos che serve fiore l'esterno Tiatino prova la conclusione ribattuta al minuto 14 gran idea di Strappini che serve Carnevali col contagiri il numero 3 di casa tenta la girata e attento Fatone ancora Iesina avanti ci prova al diciottesimo Strappini dal limite dopo uno spunto di Trudo la palla finisce a lato al minuto 24 la Iesina va in vantaggio ancora Strappini ispirato apre brillantemente per Pierandrei che batte Fatone con un preciso diagonale alla mezz'ora ancora pericolosi padroni di casa in contropiede Trudo è lesto ad arrivare prima di tutti e mettere al centro la difesa ospite riesce in qualche modo a sbrogliare Iesina che si difende bene chiudendo ogni spazio per Dos Santos e Compani il brasiliano deve dunque trovare soluzioni alternative provando dalla lunghissima distanza Niosi para in due tempi prova ad alzare il proprio baricentro il Chieti sul finire del primo tempo atteggiamento che però lascia il fianco al contropiede della Iesina Trudo parte palla al piede ed è devastante in più di un'occasione proprio dai suoi piedi arriva il raddoppio a pochi secondi dall'intervallo seppur con la complicità di Niosi sfortunato ad intuire ma non a deviare abbastanza per evitare il gol il primo tempo si chiude con un ineccepibile 2 a 0 per i biancorossi di Bugari nella ripresa ci si attende un Chieti arrembante ma la Iesina è ottimamente messa in campo e al minuto 11 Strappini ancora lui cerca la gioia personale Niosi però è attento risponde il Chieti con una punizione di Dos Santos dai 25 metri ottima la risposta in angolo dell'estremo di casa tremato dopo un gran primo tempo esce Trudo per Ragazzo tra gli applausi del Carotti proprio Ragazzo potrebbe colpire ma si intestardisce e alla fine perde palla poco prima della mezz'ora esce tra gli applausi Capitan Strappini anche lui protagonista di una gran prestazione poco dopo secondo giallo per Carnevali la Iesina resta in 10 al 34esimo Comini ha sul destro la palla per riaprire la gara Fiore imposta per Varone la parra arriva a numero 20 ospite che impatta male in pallone minuto 37 ci prova ancora Fiore dalla distanza nulla di fatto al 40esimo i 50 tifosi giunti da Chieti ammainano bandiere e striscioni non contenti di quello che hanno visto allo scadere ci prova Berricchio Niosi para in due tempi finisce 2 a 0 la Iesina chiude il 2015 con tre punti pesantissimi brutto stop per il Chieti apparso con la testa già in vacanza questo è il servizio su Iesina Chieti Avezzano pareggio e orizzonte playoff 2 a 2 dei marsicani a Recanati sfiorato il colpaccio dopo le reti di Pollino e Sassarini il basket il Roseto si ferma a Ravenna supplementare fatale agli Sharks 93 a 82 per la formazione Ravennate dopo 6 vittorie consecutive dei biancazzurri rosetani e poi la Proger ci prova ma il Verona passa Chieti subisce sotto i tabelloni contro la Tezenis lanciatissima Allegretti 21 punti che però non bastano ai Teatini per evitare la sconfitta e poi il campionato regionale di eccellenza con il Tris della Vastese sulla Val di Sangro Vastese campione d'inverno dopo la sconfitta a domicilio del Paterno battuto per 2 a 1 dal Renato Curi Angolana abbiamo visto anche prima i risultati del campionato di eccellenza e dunque possiamo chiudere siamo giunti al termine con le pagine dello sport i risultati dei campionati dilettantistici dicevo siamo giunti al termine di questo appuntamento il primo della settimana con Mattino 6 la nostra consueta rassegna stampa prima di salutarvi vi ricordo come sempre alle 14 il primo appuntamento con il TG6 grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie grazie